Sono partiti ufficialmente i lavori di recupero funzionale degli immobili della ex caserma Berardi di Chieti, che permetterà un risparmio di canoni di locazione di oltre 2 milioni di euro l'anno per il comparto pubblico. I lavori dell'intervento 4, finanziati dall'Agenzia del Demanio e appaltati dal provveditorato alle opere pubbliche per un importo economico di oltre 4 milioni di euro, riguarderanno la demolizione e la ricostruzione di una palazzina di oltre 3.000 metri quadri, con interventi edile e impiantistici attinenti l'adeguamento sismico e tecnologico della struttura, il superamento delle barriere architettoniche, il completamento dell'impianto elettrico e il rifacimento degli impianti idraulici. All'interno della struttura verranno collocati gli uffici della ragioneria territoriale dello Stato, dell'ispettorato territoriale del lavoro, liceo scientifico, un auditorium, la caserma dei carabinieri, oltre alla sala operativa della prefettura.